Ciao, oggi vuoi ciao, la pasta con lanciola. No! Si! No! Si! No! Si! Si! Non posso mettere la pasta con lanciola? No, 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 no. No, 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 no. E basta? Basta! E dopo? E dopo andiamo a meccanare. Io dà te! E ci mettiamo un momento buono. Adesso mettiamo le aciughe. E c'è un poco basso, così, le aciughe di scioglio. E' un po' molto buono. E' un po' di scioglio. Mmm, è buonissimo! No, 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 no. Pino agli Pomodoro Pino agli Pino agli Pino agli Pino agli Archer Semplic Pino agli Grazie a tutti